Alla Dispoli si è svolto un importante incontro tra il delegato all'edilizia sportiva Roberto Hurtel, i dirigenti scolastici dell'Istituto Sandro Pertini e il consigliere della città metropolitana Federico Ascani. L'appuntamento, spiega Hurtel, si è reso necessario per capire quali siano i motivi che non consentono ai cittadini di accedere alla palestra del plesso. Si tratta di un'ampia ed accogliente struttura con annesse tribune e spogliatoi, ma con evidenti carenze. In primo luogo manca il certificato di prevenzione incendi che viene rilasciato dalla città metropolitana. Inoltre è necessaria una manutenzione ordinaria di piccole entità, ovvero la sostituzione di una porta d'uscita d'emergenza e delle caditoie di raccolta dell'acqua piovana sul tetto. Sarà impegno mio dell'amministrazione e conclude sollecitare gli uffici competenti affinché vengano effettuati questi interventi. E sempre alla Dispoli la dirigente dell'Istituto Superiore Giuseppe Di Vittorio e il sindaco Alessandro Grando hanno firmato un documento congiunto che prevede una cooperazione a largo raggio per promuovere iniziative ad alto valore formativo a favore degli studenti.